Musica Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me Occhio all'artista Il piacere e l'onore di averti qui con me Ed iniziamo subito la prima domanda Come nasce la carriera artistica di Anna Dauria? La carriera artistica di Anna Dauria nasce da una grande passione Io da piccolina ho sempre partecipato a concorsi teatrali Con la scuola, compagnie amatoriali Fino a che un bel giorno mi trovavo in una rassegna teatrale scolastica E c'era in platea un noto impresario siciliano Michele Nicolò E mi vide Viene nel camerino, si viene a congratulare Io ho figurato emozionatissima Facevo le cose scolastiche E mi fa Mi piacerebbe averti nel mio spettacolo in Sicilia Di sì, è vero, è un sogno, sto scherzando Così ho iniziato a lavorare con lui E poi ti racconto, se mi permetti un piccolo aneddoto Era un po' scritto che io dovessi fare l'attrice Perché quando ero piccolina In genere i papà e le mamme Ai bambini raccontano le favolette Le fiabe, le principesse, le nananne Mio padre invece la sera mi raccontava Le commedie di Eduardo I film di Totò Le poesie di Viviani Mi cantava tutto il repertorio classico napoletano Ho vissuto con due nonni Che parlavano il dialetto arcaico napoletano di Viviani Quindi era forza l'attrice Non potevo venirne fuori da questa cosa Benissimo, veramente ci stai arricchendo con questa tua intervista Gli artisti che hai lavorato E che ti ha fatto piacere lavorare E che ti hanno dato qualcosa Io in genere con le persone che lavoro E porto dei lavori a termine Sono tutte persone che a me fa piacere lavorarci Io scelgo bene con chi lavorare Perché mi hanno insegnato a rinunciare per crescere Non bisogna magari buttarsi a lavorare col primo Che capita pur di far finta di lavorare Ho lavorato con grandi artisti Dove tutti mi hanno insegnato qualcosa Addirittura anche i bambini che recitavano in scena con noi Mi hanno insegnato qualcosa Perché dal bambino impari la spontaneità Dall'uomo scafuto Dall'attore di teatro impari delle raffinatezze Impari tanto Io mi sono pregiata di lavorare con grandi artisti Che io stimo Mario Brancaccio Oscar Di Maio Antonio Taiano Caterina De Santis Gaetano Liguri Davide Ferri Collaboro spesso con la signora del teatro Anna Maria Ackerman Che è anche la mia insegnante di edizione Ti voglio precisare una cosa Io non sono cantante Tu nella presentazione mi hai detto attrice e cantante Io nasco come attrice Poi un bel giorno Un signore Il mio caro amico Antonio Taiano In un suo spettacolo nella sceneggiata Mi fa Ecco Anna vedi qua c'è un duetto Lo fai tu ed è Ernesto Martucci Io gli ho detto E il duetto Vabbè non l'avevo mai cantato Panico totale Vabbè non potevo mai far finta di E così con il maestro iniziamo a strimpellare questo duetto Da lì è nata questa piccola passioncina anche per il canto Mi rendo conto di non avere una voce da San Carlo Però mi diverto in canzoni divertenti, brillanti Che comunque mi fanno piacere E se nessuno parla Ma parli Anna tu hai partecipato e ha preso parte a tante forme teatrali Da Plauto alla commedia brillante di Oscar Di Maio Fino alla sceneggiata di Antonio Taiano Che cosa ti hanno dato queste tre forme teatrali? E ovviamente che ti hanno insegnato ognuno di loro? Ecco questa domanda è un po' tostarella Devo dire la verità Perché ogni forma di teatro Ogni forma di commedia Ha un suo filone È bellissimo fare Plauto È bellissimo fare le commedie briose di Maio Però per me è stata un'emozione grandiosa Fare la sceneggiata Anche perché era una forma di teatro Che io avevo visto da lontano Logicamente essendo giovane Non ho visto nascere la sceneggiata Però mi ha dato tanto Perché quella Napoli viscerale Quella Napoli di valori Quella Napoli forte Ma che comunque ti lascia quel buono Non ti lascia quell'amare in bocca Perché c'era un rispetto E un vero modo Cioè tu per fare la sceneggiata Devi entrare in certe mentalità Perché se non la conosci a fondo Se non entri nella mentalità della sceneggiata Non potrai mai farla Non potrai mai capire i tempi tecnici Non potrai mai capire la passione Che si ha in quel momento In quella scena Poi la sceneggiata è stata un po' Deriva da origini nobili Se noi pensiamo alle tragedie greche Sono la sceneggiata Quando poi il futuro Poi sono stati La sceneggiata si è evoluta nei musical I musical sono nient'altro che la sceneggiata Magari fatta in italiano Magari fatta in inglese Però è sceneggiata ragazzi C'è il balletto C'è la risata C'è la drammaticità C'è la canzone C'è tutto Posso dire Anch'io ho fatto la sceneggiata E adesso guardiamo un pizzico di sceneggiata Di Anna Dauria Insieme all'attore Mario Aterrano A Acerrano Guardate Vincere tu mi hai capito buono Quello che è successo Frametti A dare staccare E come mi ha presente il paese Tornando in dall'anno Mi ha chiesto di loro forte Con te che non mi spuso Tu pensi e ti spusano E parla già E ti spusano Vinceremo Ma c'è stato Ma pensi a faticare Non ti ha rete Non posso E su un cavo nevo Se sono passato Tutto assieme a me Perché pure loro Sono come annullo Pure loro Tenono il destino Morire Non abbraccio Una sposa Ma gli anni Non vogliono morti Guarda che io In quel video Piando io sul serio E mi sono emozionata tanto 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 Basta non dico niente più Perché se no Continuo a piangere Giuro Ti continui ad emozionare Allora Anna In questo periodo Napoli E la tradizione teatrale La tradizione della cultura Ovviamente Per la crisi che c'è Se vogliamo E un po' Ovviamente Ci sono tanti problemi In questo periodo A Napoli Per gli artisti Per la città Chi non si avvicina più al teatro Tu da artista Che cosa ti senti di dire? Guarda io Vorrei chiedere Un aiuto Alle istituzioni Perché io credo Che noi a Napoli Siamo Siamo ricchi Siamo ricchi Tanto Perché Oltre a Napoli È conosciuta nel mondo Oltre che per la pizza Per il mandolino Il sole Il mare Il vesuvio Ma è conosciuta anche Per la tradizione Per il teatro Per i grandi Che noi abbiamo avuto Noi abbiamo avuto Veramente Dei grandi autori A Napoli Dei grandi Attori Delle persone Che hanno regalato Tanto Ed è peccato Che noi li perdiamo È peccato Che noi perdiamo Questo bagaglio culturale Che abbiamo Alle spalle Perché noi Per capire Dove vogliamo andare Dobbiamo capire Da dove veniamo Quindi È peccato Perdere questo Che noi abbiamo È peccato Buttare così Secoli di tradizione E di storia Quindi Cari politici Care istituzioni Dateci una mano Questo è un ottimo messaggio Devo dire la verità Che arriva Sicuramente All'istituzione Ma anche Al pubblico Che segue E che è legato Alla tradizione teatrale E dello spettacolo La gente ama il teatro La gente vuole andare al teatro Solo che Con la crisi che c'è oggi Parliamoci chiaro Una famiglia Astenta Arrivare a fine mese Come può permettersi Il lusso Anche se il biglietto Magari può essere minimo Ridotto Di andare al teatro Quindi La gente vuole 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 andare al teatro Anna Ovviamente Questa trasmissione Si chiama Occhio all'artista In questo caso Sei stata mia ospite Ospite di TLC E di Occhio all'artista Quindi un saluto tuo Ai telespettatori Di Occhio all'artista E di TLC Perdonatemi se Con nessuno di voi Non ho niente in comune Io sono un istrione A cui la scena dà La giusta dimensione La vita torna in me Ad ogni chi è di scena Che io sentirò E ancora morirò